appena finisco me ne vado dritto a latino non provare a ignorarmi sai manca poco master sì rogne coi registri già fatto martha Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Cosa c'è stavolta, Torgal? Mi sa che non sarà una... Grazie a tutti. In genere sono io che faccio domande a B. C'è stavolta, Torgal? So che è stavolta, Torgal? Oh, mio Lord Marchese. Oh, mio Lord Marchese. Grazie a tutti. Come si è stavolta, come si è stavolta, Torgal? Se è stavolta, come si è stavolta, come si è stavolta, Torgal? No, come si è stavolta, come si è stavolta, Torgal? Ratterford, come si è stavolta, come si è stavolta, come si è stavolta, Torgal? Ratterford, che ci fa alla rifugio... Prendiziedi... Prendizia... Prendizia... Non... Prendizia... Prendizia... Già... Hans, è pericoloso! Che differenza c'è? Oh... 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 Che corruption. Qu Advirati... No 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 It No 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 non può continuare così a lungo gloria grigora clive volevo darti una cosa per la pietà che hai mostrato al che cos'è un baule con tutte le medicine di vista la tua riluttanza a passare dall'infermeria sono certo che sarà molto utile etaria e chi può farlo altrimenti rodrighe impara in fretta prenderò in considerazione il tuo consiglio qua e poi chi altri si assicurerà che tuo fratella bella domanda non 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 Grazie a tutti Grazie a tutti